I millennials, ovvero la generazione degli individui nati tra l'anno 1980 e il 2000, stanno rimodellando i mercati e hanno il potenziale di influenzare quelle che sono le dinamiche competitive all'interno dei settori in tutto il mondo. Con circa 2,3 miliardi di individui rappresentano il gruppo demografico più numeroso a livello globale, ma soprattutto rappresentano un gruppo demografico che ha un potenziale di spesa in crescita e potenziali di reddito in crescita rispetto alle generazioni precedenti. Ecco, si capisce allora il potere di questa generazione nel poter influenzare quello che sarà il successo dei vari settori a livello globale e le opportunità di investimento a livello globale rispetto alle generazioni precedenti. Se è vero quindi che la generazione dei millennials sta influenzando le dinamiche di consumo a livello globale, è ancora più vero se andiamo a guardare i paesi emergenti dove risiede l'86% della generazione millennials e quindi andando a vedere l'influenza che i millennials hanno sui modelli di consumo, sull'impatto della tecnologia e proprio nella quotidianità e alle loro priorità di consumo rispetto alle generazioni precedenti, possiamo intuire quanto all'interno dei paesi emergenti la generazione millennials stia influenzando tutte le dinamiche all'interno dei settori. Cosa significa questo? Significa che non è solo molto importante andare alla ricerca di queste dinamiche e dei modelli di comportamento, ma è importante anche andare a trovare quelle opportunità di investimento rappresentate dalle società in grado di innovarsi ed adeguarsi a questi nuovi modelli di consumo. Si fa spesso riferimento alla generazione dei millennials come ai nativi digitali, già questo indica l'importanza della tecnologia e quindi tutti i consumi legati al settore della tecnologia e se andiamo a vedere anche quali sono le esposizioni all'interno del nostro fondo, il GS Global Millennial Fund, vediamo che sicuramente la tecnologia ricopre un ruolo importante. Ci sono però anche altri settori molto importanti da studiare con molta attenzione, perché? Perché le aspirazioni, i consumi, le ambizioni della generazione dei millennials sono molto differenti rispetto alle generazioni precedenti e quindi tutto quello che è esperienza, viaggi, benessere, energie rinnovabili, salute, ricoprono un ruolo più importante rispetto a generazioni del passato. Ora, se andiamo a vedere quello che è l'universo di investimento potenziale per costruire un portafoglio millennials, facciamo riferimento ad oltre 500 società. Riteniamo che un approccio bottom-up basato sulla ricerca dei fondamentali sia importantissimo per andare a costruire un portafoglio in grado di carpire tutti quelli che sono le dinamiche e i temi legati alla generazione millennials. Il GS Global Millennial Fund ha attualmente circa 50 titoli in portafoglio, ogni titolo è direttamente espressione dei consumi e delle dinamiche di comportamento dei millennials e il gruppo dei gestori e degli analisti fa continue ricerche e interview all'interno delle società che abbiamo in portafoglio per capire anche qual è il modello di business e di innovazione e come i comportamenti del millennials vengano recepiti all'interno di queste società. Assolutamente sì. Giusto per riassumere ed evidenziare alcune caratteristiche della generazione millennials parliamo di 2,3 miliardi di individui che rappresentano il gruppo demografico più numeroso a livello globale con il potenziale di spesa e di reddito in crescita più alto rispetto alle generazioni precedenti. L'86% della generazione millennials risiede nei paesi emergenti. Quando facciamo riferimento a questa generazione spesso si tende a fare anche un passaggio circa la generazione millennials che vediamo in Italia, rappresentata da 11 milioni di individui, 11 milioni su 2,3 miliardi di individui a livello globale. Il fondo azionario che gestiamo in Global Success Management, il GS Global Millennials Equity Fund, ovviamente va a valutare a livello globale in tutti i settori quelli che sono le opportunità di investimento che sono in grado di recepire, di implementare quelli che sono i modelli di consumo e di comportamento della generazione millennials e ha la caratteristica anche di evolvere con l'evolvere della caratteristica della generazione millennials. Quindi riteniamo che a livello globale la generazione millennials rappresenti oggi un punto di partenza per costruire un portafoglio azionario andando proprio a concentrarsi e ad analizzare quelli che sono i modelli di comportamento e di consumo. È una generazione, ripetiamo, numerosa ma soprattutto con un potenziale di spesa e un reddito in crescita.